Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, ben ritrovati sul canale di AC Milan Inside. Quest'oggi video prepartita particolare, diverso dal solito, in vista dell'attesissimo derby di domani. E' proprio di derby di cui oggi andremo a parlare, rispettivamente vi andrò a fare una classifica, una particolare classifica dei derby che negli ultimi dieci anni mi hanno segnato oppure che comunque mi sono piaciuti di più. Prima di iniziare, come al solito, vi chiedo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti che io, Giuseppe ed Alfonso vi porteremo qui su YouTube. In più, in descrizione troverete anche i link necessari per i nostri profili social e il nostro sito web ufficiale www.acmilaninside.com. Come al solito, vi ricordo che questa classifica è una classifica puramente soggettiva, nel momento in cui uno di voi non fosse d'accordo con una mia idea, me lo facesse sapere qui sotto nei commenti senza alcun tipo di problema. Iniziando, partiamo dalla quinta posizione, la quinta posizione dei derby che più mi sono piaciuti negli ultimi anni. Al quinto posto ci metto il derby dell'anno scorso, rispettivamente quello della quarta giornata di campionato, del 17 ottobre 2020, quando il Milan si impose 2-1 sull'Inter di Conte. Il Milan all'epoca era già sotto pressione, nel senso che arrivò al derby quasi sbeffeggiato, ecco, dalla Milano nirazzurra dicendo che il Milan doveva ancora affrontare una squadra effettivamente forte, visto le prime tre giornate di campionato, i rossoneri avevano affrontato rispettivamente Bologna, Crotone e Spezia. Il Milan quindi comunque arrivava al match carico dei 9 punti ottenuti nelle rispettive tre partite di campionato, ma comunque con sempre quel filino di adrenalina ma di terrore che caratterizza il derby. Vi ricordo però, mi rimane impresso nella mia mente, le bellissime immagini della curva sud e comunque in generale di tutta quanta la tifoseria rossonera che accompagna il pullman del Milan fino a dentro San Siro. Quella sfida poi sappiamo benissimo, la vincemo per 2-1 grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, prima sul rigore e poi sul meraviglioso assist di Rafael Leao. Per quanto riguarda Leao ovviamente basti ricordare Leao dell'anno scorso e quello di quest'anno per avere una speranza in lui nella sfida di domani, a cui rispose il gol del soldo Romelu Lukaku. Mi ricordo anche che fu un derby che io ho sentito particolarmente, anche perché il Milan non vinceva un derby da tantissimo tempo e un po' tutti parliamoci chiaro, ci siamo immedesimati in Mauro Suma quando Donnarumma all'ultimo minuto ha salvato quel tacco di Lukaku che sembrava essere quella solita palla rocambolesca che caratterizza le nostre partite. Continuando alla quarta posizione io ci inserisco il 3-0 del 31 gennaio 2016. Bene, quello è un pezzo di storia di Milan che mi auguro di vendicare il più presto possibile, però mi ricordo anche che quella partita il Milan la stravinse, un Inter di Mancini che era favorito in quella circostanza. Ovviamente, parliamoci chiaro, sono storie, erano momenti della storia di Milan ed Inter completamente differenti rispetto agli attuali, quindi quelle squadre non possono essere assolutamente messe a comparazione con queste, però comunque in quel periodo storico l'Inter era nettamente, anche come questo d'altronde per la sfida di domani, favorito sul Milan, però il Milan dell'allora ex nerazzurro, tra l'altro Sinisa Mijailovic, riuscì ad imporsi sui nerazzurri vincendo per 3-0. Segnarono prima Alex, poi segnò Bacca e segnò Mbaye Miang. Nell'intermezzo, quel famosissimo rigore sbagliato, il palo di Mario Riccardi, che avrebbe potuto insomma in un modo o nell'altro stravolgere i piani di una partita che il Milan fino a quel momento stava meritatamente vincendo. Continuando, ora andiamo sui tre gradini del podio, nel gradino più basso del podio ci metto il derby di quest'anno, del 7 novembre 2021. Voi direte perché, visto che il Milan ci ha pareggiato. È giusto, però l'ho inserito in questa particolare top 5 rispettivamente nel gradino più basso del podio, perché è un derby che ho molto a cuore. È stato il primo derby che ho vissuto in curva, visto che in generale la mia prima partita a San Siro fu il 4 di aprile 2018, quando pareggiamo il derby 0-0 contro l'Inter, insomma quando, per intenderci, fu Riccardi che sbagliò portavuta al 95esimo, però ci inserisco questo perché è stato il mio primo derby in curva. È un derby che ricorderò anche perché è stato il primo derby post-pandemia. Mi ritengo fortunato di aver fatto parte di quella giornata, comunque di quell'atmosfera e parliamoci chiaro poi. Quella giornata è stata caratterizzata dal rigore parato alla Taro di Taro Sano. Quando ci capiterà mai più una cosa del genere. Però comunque mi ricordo che è stata una partita molto bella, vincente. Il palo di Sallemakers, ovviamente, ho avuto gli incubi per giorni quel palo, però comunque è stata una partita che mi rimane a cuore, mi rimasta impressa, dovuto anche per la velocità e l'attitudine di entrambe le squadre a dover sempre e comunque attaccare e provare il gol della vittoria. Non a caso il derby viene anche elogiato pochi giorni dopo da Lelle Adani sul suo canale Twitch BoboTV, dove proprio spiegò che lo spot pubblicitario del calcio italiano della partita del derby era uno spot perfetto per indicare quella che è l'attuale ideologia calcistica che si sta cercando di diffondere in Italia. Al secondo posto, invece, inserisco il derby dell'1-0 del 27 dicembre 2017. Bene, è inutile parlarne di quel derby. Quarti di finale di Coppa Italia, Milan-Inter, derby della Madonnina, il Milan che poi avrebbe affrontato la Lazio in semifinale di Coppa Italia. Cutrone, al 107esimo minuto, decise di far esplodere un San Siro che fino a quel momento era stato abbastanza calmo, visto le poche occasioni da rete che si sono immedesimate nel corso di quella partita. Cutrone, mi ricordo ancora, ero a Roma con un gruppo di amici in una stanza di albergo, tra l'altro con un mio amico interista, al gol di Cutrone. Quello che ho potuto combinare, insomma, è storia. Richiami dai vicini, comunque gente che chiedeva di placarmi, ma insomma, vincere un derby è supplementare, di quella maniera, con un ragazzo, tra l'altro, della nostra cantera come Cutrone, è sempre bello, anzi no, è sempre stupendo. Al primo posto, invece, ci inserisco il derby del 2 aprile 2011. Derby che vincemmo, o meglio, stravincemmo per 3-0. Un derby che poi segnò lo slancio definitivo per il Milan verso il suo diciottesimo scudetto. Ricordiamolo, segnò Pato al quarantesimo minuto, segnò Pato al secondo tempo su assistenza di Abate e poi segnò Antonio Cassano sul calcio di rigore. Quella partita del Milan giocò in maniera perfetta, non sbagliò nulla. Proprio nei giorni scorsi Pato, in un'intervista sul canale del 13 del Milan, disse io mi rivolsi ad Abbiati dicendo senti, tu oggi devi solo parare perché a segnare ci penso io. Effettivamente quella partita cosiando Pato, talento cristallino che non è mai riuscito effettivamente di imporsi, quella partita sembrava in stato di grazia. Nessuno riuscì a fermarlo, il punto proprio che deliziò il tifo rosso nero con una doppietta. Bene, questa è la particolare classifica dei derby che io ricordo con tanto affetto di questi ultimi anni, rispettivamente a questo punto direi degli ultimi 11-12 anni. Mi auguro che questa classifica comunque possa essere molto simile alle vostre. Vi ripeto, qualora cambiasse qualcosa? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Nel corso della giornata ci sentiremo nuovamente visto che sia Peppe che Alfonso staranno preparando video news per quanto riguarda la partita di domani. Ci sentiamo comunque anche domani nel pre partita e sempre Forza Milan!